Sono complessivamente 3.780 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, con un aumento di 5 nuovi casi rispetto a ieri, di età compresa tra 24 e 73 anni, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Il totale dei casi complessivi risulta inferiore, in quanto sono stati sottratti due casi comunicati nei giorni scorsi e risultati già in carico ad altre regioni. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.902 dimessi guariti, più 24 rispetto alla giornata di ieri, così gli attualmente positivi in Abruzzo sono 406. 29 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, un solo paziente resta ricoverato in terapia intensiva, mentre gli altri 376 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Del totale dei casi positivi 426 sono residenti o domiciliati in provincia di L'Aquila, 915 in provincia di Chieti, 1694 in provincia di Pescara, 712 in provincia di Teramo, 31 si trovano fuori regione e 2 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. L'assessorato alla sanità comunica inoltre che al netto dei riallineamenti e delle residenze accertate i 5 nuovi casi di oggi si riferiscono alle province di L'Aquila a 4 casi, mentre uno a quella di Chieti. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati seguiti complessivamente 157.881 test.